Ultime ore per gli acquisti? Sì, proprio l'ultimo regalo. Cosa mancava? Un nipote. Trovato? Certo. Dagli indecisi che non sapevano cosa comprare fino a poche ore fa ai ritardatari cronici, passando per i tanti che, nonostante la buona volontà, non sono riusciti a finire gli acquisti per tempo e, in qualche caso, nemmeno a iniziarli. Sono i comaschi che, in questi giorni, affollano il centro città per la classica corsa al regalo dell'ultimo momento con un solo obiettivo, riuscire a spuntare tutti i nomi dalla lista il prima possibile. Io sono sempre un po' quella dell'ultimo momento, però ce l'abbiamo fatta anche quest'anno, sì. Quest'anno regali? Sì, un pensiero per tutti, magari per i figli qualcosa di più e per le amiche, ovviamente, una cosina tanto per farsi gli auguri. Qualche pensiero che c'era da concludere per le festività. Se c'è qualcosa di carino, si prende un pensiero nel clima e nello spirito natalizio. Sono proprio di corsa perché sto finendo e questo è sempre uno stress. Soprattutto poi, gli ultimi giorni, davvero, sei sempre di corsa e riesco sempre a portarmi al limite del tempo. Uno fa tanti propositi, quest'anno li compro in anticipo. No, non riesco mai. E soprattutto perché abbiamo tanti impegni e allora, all'ultimo momento... Il regalo più difficile da trovare? Per i miei figli maschi. Ci sono delle domande specifiche, delle richieste specifiche e stiamo cercando di accontentare. Adesso sono i generi, i figli a posto, i generi. Dal numero di pacchetti che vedo capisco che lei è una ritardataria, è una di quelle dell'ultimo momento. Abbastanza, ho una bimba piccola di tre mesi e quindi sono arrivata all'ultimo giorno. Ha fatto tutto, ha finito? Sì, dovrei andare al supermercato a fare la spesa, se riesco, volentieri.